ebbene sì non si è fatta attendere un'altra provocazione da parte di pique nei confronti di shakira hai visto fabio già infatti dopo averle risposto prima con il casio adesso è stata la volta della twingo e bella mossa del casio e tu dai dimmi che team sei shakira o pique io chiaramente shakira io sono team pique.com perché ti ho costretto certo e voi scrivete nei commenti e ditemi di che team fate parte un grosso abbraccio per le prossime news ciao 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 ciao